Entriamo in cronaca, è il premio Cirdan, quarta del convegno, confronto per anziani sul miglio, a pochi istanti dalla chiusura di gioco la quota di Red Baron è di 1,42. 1 Red Baron, Federico Esposito, 2 Maier, Tommaso, Di Lorenzo, 3 Pedro Mac, Giampaolo Minucci, 4 Manrique, Biagio, Lo Verde, 5 Solitario, USM, Lucio Becchetti, 6 Naxos Desi, Francesco Pettinari, 7 Soia della Luna, Gennaro Casillo, in sostituzione di Enrico Bellei, al numero 8 Puerto Rico, Mario Manzone e al 9 Arancio Pancio, Francesca Croce. Con molta calma, Naxos Desi. Prende velocità la macchina, stacca in questo istante, c'è battaglia per il comando, all'esterno è molto veloce Soia della Luna, lungo la corda è rapido Red Baron, fra i due Manrique che desiste e ripiega, Soia all'attacco di Red Baron, poi Manrique, ancora Puerto Rico, Maier, Solitario, USM all'esterno. Vediamo il passaggio ai primi 400 metri, Red Baron e Soia in coppia, li chiudono in 27 e 8 sul mio cronometro. Così, Red Baron, Soia, Manrique, poi Puerto Rico, Maier, ancora Arancio Pancio, risale all'esterno, Naxos Desi. Tanto i covali affrontano la penultima curva con Red Baron a scandire il ritmo, Soia che lo segue lungo la corda davanti a Manrique, poi Puerto Rico che accena ad affacciarsi all'argo, 59 per i primi 800, quindi 31 e spiccioli per il secondo quarto dopo il primo veloce in 28 scarso. Sulla retta di là, Red Baron davanti a Soia e Manrique, a largo risale Naxos Desi, il chilometro 1.14, Naxos che guadagna a largo, si porta presso Puerto Rico, Red Baron è sempre saldo battistrada, Soia lo segue lungo la corda, in bocco della piegata conclusiva, Red Baron, Soia, a largo Naxos seguito da Puerto Rico. Poi ancora Manrique, i 1.2 in 1.28 e 7, tornato ad accelerare Red Baron con un 14.5 da 600 a 400 finale, all'esterno, a ridosso Naxos Desi, più a largo prova Puerto Rico, Soia della luna è stanca, mancano 200 al termine, Red Baron al comando, Puerto Rico che prova a gancio, Red Baron in vantaggio, Puerto che ci prova, poi Naxos, gli altri lontani, crolla Soia, 100 metri alla conclusione con Puerto che ci prova, Red Baron che controlla, Red Baron, il barone rosso, che viene a vincere davanti a Puerto Rico e Naxos Desi, io ho 1.57 e 1, che sui 1.006 sarebbe 1.13 e 2, potrebbe essere anche qualcosina meno con il parzialino, quindi diciamo che la media potrebbe essere nell'ordine del 13 scarso, Red Baron, Federico Esposito, Eric Bondo, i colori della scuderia Wave, tre vittorie nelle ultime quattro uscite, quota al totalizzatore di 1.40.